Dove non arriverà il governo con l'estensione nei luoghi pubblici del Green Pass lo farà la regione toscana con un'ordinanza. E' questo l'annuncio perentorio del presidente Eugenio Gianni arrivato tramite social e che ha subito scatenato polemiche. Che il governatore volesse mantenere un'impostazione rigida era ormai chiaro, già lo scorso primo settembre aveva infatti annunciato che i non vaccinati ad ottobre sarebbero rimasti a casa. Una linea confermata alcuni giorni fa anche ai nostri microfoni. Non era una provocazione la realtà, nel senso che poi ho visto addirittura il presidente Draghi, è stato ancora più chiaro e io condivido il suo pensiero rispetto al fatto che in certe condizioni di autorizzazione del farmaco è un processo naturale quello di arrivare all'obbligo del vaccino. Vogliamo che si continui con le zone rosse, le zone arancioni e le restrizioni di mobilità? Io personalmente ritengo che per la nostra comunità sia attraverso il vaccino invece possibile convivere con quello che è un virus particolarmente insidioso, direi terribile, che si adatta alle situazioni e che ha portato nell'arco di un anno e mezzo a far morire in Italia quasi 130.000 persone. Ci sono dei momenti, la storia ce lo insegna, in cui l'unico modo per debellare quello che diventa una pandemia è proprio il vaccino. È accaduto per la polio, è accaduto per il vaiolo, è accaduto per malattie terribili che sono state debellate solo nel momento in cui il vaccino ha creato l'immunità di Grece. E con questo dobbiamo fare anche con il Covid-19. Adesso la regione sarebbe pronta ad emettere un'ordinanza che potrebbe essere ancora più restrittiva da quanto previsto dal governo e che interesserebbe tutti i locali pubblici.